Una lite per futili motivi si era trasformata prima in un pestaggio e poi in un'aggressione all'arma bianca con la più giovane delle vittime ricoverata in ospedale con ferite alla testa e suo padre con diversi tagli sul corpo. Ieri gli agenti dell'arma dei carabinieri avrebbero preso in custodia il presunto responsabile della violenza avvenuta la scorsa domenica 26 marzo nella zona delle palazzine ed edilizia popolare della 219 a Melito. Stando a quanto è costruito, la lite sarebbe scoppiata tra l'autore della violenza e le due vittime, padre e figlio. Un diverbio per futili motivi che sarebbe dovuto terminare lì dove era iniziato e che invece è finito con i due ricoverati in ospedale a Giuliano. Ieri, su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli Nord, i carabinieri hanno fermato un uomo gravemente iniziato dei fatti. Si tratta di un 34enne di Casore già noto alle forze dell'ordine che tra le altre cose nel comune di Melito dove sono avvenuti i fatti non poteva neppure esserci a causa di una misura di diviso di ritorno precedentemente emessa nei suoi confronti. Ora l'uomo dovrà rispondere delle accuse di lesioni aggravate nei confronti del giovane e di tentato omicidio nei confronti del padre dell'adolescente oltre che della violazione del divieto di ritorno nel comune di Melito. Grazie a tutti.